Da Modric sul secondo pallo il colpo di testa di Sergio Ramos con l'uscita a vuoto di Skorupski Lukas, dall'altra parte c'è Bale, prova a raggiungerlo Lukas, Bale! Allarga troppo il mancino e spara sul fondo, Real Madrid ad un passo dal gol dell'1-0 con Gareth Bale Iaic si accentra Totti che aspetta il pallone, Iaic punta ieri a Mendy, Iaic finta la conclusione Iaic con il mancino, conclusione larga che termina sul fondo Pallone vivo con Isco che lo rimette in mezzo, Sergio Ramos, buono il tempo dello stacco poi Lukas, Skorupski, Pepe e il salvataggio miracoloso di Benatia quasi sulla linea di porta Geniale il passaggio sulla destra per Florenzi Totti! Francesco Totti quando gioca contro il Real Madrid riesce sempre a segnare un gol, 1-0 Totti alza la testa, il pallone dietro, Iaic! Ad un passo dal 2-0 la Roma Modric si ferma, si gira, cerca Copani liberi, trova Isco la conclusione a giro di Isco, Skorupski ci mette la mano ma non serve l'intervento, il pallone termina sul fondo il fischio di Fischer, tempo scaduto, la Roma batte Real Madrid, 1-0 ma non serve l'intervento, 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 ma non serve l'